Esce sconfitto il Montevarchi dalla trasferta di Imola, i Rossoblu dopo un buon primo tempo subiscono l'1-2 dei Romagnoli in avvio di ripresa senza riuscire a rimettere in piedi la partita. Si interrompe quindi la serie positiva della squadra di Malotti, imolese che trova tre punti importanti nella lotta per la salvezza. Inizio della gara è equilibrato con le due squadre che si affrontano con reciproca attenzione. Occorre attendere il 29esimo per vedere il primo spunto. Buona azione di Lia che si fa quasi metà campo palla al piede e conclude al lato nel tentativo di sorprendere giusti sul primo palo. 36esimo, Montevarchi pericoloso, Jellov favorisce la conclusione di Giordani, tiro in diagonale non distante dal palo. Il finale del tempo propone i Rossoblu pericolosi, 38esimo, Santo Padre è costretto a un grande recupero su Gambale, pronto ormai alla conclusione. Opportunità per i padroni di casa al 40esimo, ma l'estremo difensore giusti salva sul tiro di Luca Lombardi. Sul ribaltamento di fronte Barranca chiama Santo Padre alla diviazione in calcio d'angolo con un bel tiro dalla distanza. È uno 0-0 quello del primo tempo che toglie qualcosa al Montevarchi, a parso più propositivo rispetto alla squadra di casa. Così anche l'inizio della ripresa, dove peraltro la partita si decide, prima però il Montevarchi si rende pericoloso in almeno un paio di occasioni. Al 59esimo Limolese trova in modo di sbloccare il risultato. Lungo lancio dalle retrovie per Belloni, apertura per Luca Lombardi, cross per Romano che scarica in rete, trovando la respinta di Giusti. Rete viene assegnata al numero 15 nonostante la ribattuta vincente di un suo compagno di squadra. Due minuti dopo Limolese raddoppia, ancora azione costruita sull'asse Belloni-Luca Lombardi. Cross da destra per l'altro Lombardi, Alessandro, che controlla e batte Giusti con la punta. Il resto della partita riserva poco o nulla, subentra anche un po' di nervosismo nel Montevarchi, che non riesce a rimettersi in gara. L'ultima opportunità capita a Sorrentino. Stop finte e tiro verso la porta, fuori di poco. Finisce quindi con la vittoria 2-0 di Limolese. Per il rosso-blu un po' di amarezza per una partita che in fondo era alla loro portata.